Allora, questo caso parlate sempre del nostro ultimo album, si intitola Anomalusso, perché ero un po' come lui, cioè voi sapete se non saltate che cosa vi viene, eh? Il colera addirittura! Sì, è la stessa cosa però con un altro linguaggio un po' più aulico, un po' più ricercato. Questa antica malattia che vi viene se non saltate tutti, è come se è la famosa, io nego e diamone poi, nel tempo è sempre rimasta inalterata, idromerda, prego maestro. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.